Allora, noi voteremo positivamente a questo ordine del giorno, d'altronde questo di riaggiornare il piano con i dati era un impegno che ci eravamo presi addirittura in commissione e anche con i sindacati che ce l'avevano apertamente chiesto oltre a tutte le opposizioni. Tant'è che noi voteremo sia a questo ordine del giorno e poi gli daremo completamento, poiché ho posto anche un emendamento alla delibera che va in tal senso. Quindi volevo rassicurare ai colleghi che questa è una tematica che ci coinvolge tutti e ci vede tutti sulla stessa linea d'onda e praticamente cercheremo proprio di attuarla e di attualizzare il piano alla luce sia dei dati del Covid ma anche di attualizzarlo con i dati successivi al 2019. Grazie.